Ehi, Assina, non dovresti lavorare in coppia? E tu con chi staresti lavorando? Se la cava bene da sola. Oh, lo vedo. La tua amica scienziata, più che analizzarlo, se l'è preso l'acido. Io lavoro da sola, quindi sobbrimati. Perché sei così scontrosa? Io dovrei essere arrabbiato. Mi hai ervinato la maglietta. Mi hai chiamata sfigata e oscena, Wesley. Che cosa? No, non è vero, io ti ho chiamata Asso. Certo, è quello che significa. Amica sfigata, strategicamente oscena, cazzone. Ma l'Asso non è necessariamente sfigato o osceno. Sei come Tony Romo, gioca nei Dallas Cowboys, ma non vai in giro al cavallo. Giusto? Io non ho idea di che diavolo stai parlando. Ti sto dicendo che non chiamerei mai nessuna sfigata e oscena. Perché non si fa? Ma è un acronimo, suona bene, è orecchiabile. Oh mio Dio, evapora, ti prego, se no ti improvviso. Scusa, ma che vuoi dire? Evapora. Come va con l'acido?